Con questo video, di nuovo, voglio prendere in esame un versetto della traduzione del nuovo mondo, Bibbia dei testimoni di Geova, versione 2017 in italiano. Voglio confrontare un passo del Vangelo, Vangelo di Giovanni, capitolo 10, il versetto 33. Voglio confrontare come è riportato nella traduzione del nuovo mondo e come è riportato nelle altre Bibbie, e poi vediamo come è riportato nell'interlineare. Qui è scritto, i giudei gli risposero, non ti lapidiamo per un'opera eccellente, ma per una bestemmia, perché tu, pur essendo un uomo, fai di te stesso un Dio, un Dio, articolo indeterminativo, Dio scritto in minuscolo, quindi sulla scia di Giovanni 1.1, anche qui, la traduzione del nuovo mondo mantiene la stessa linea, ossia quella che Gesù non sia Dio, ma sia un Dio, più piccolo, accanto al Padre, creato dal Padre. Infatti, anche qui, la traduzione del nuovo mondo mette in bocca ai giudei di riconoscere che Gesù fa di se stesso un Dio. Ora vediamo come questo passo viene reso da altre versioni bibliche. Vediamo come lo rende la Dio Dati. I giudei gli risposero dicendo, noi non ti lapidiamo per un'opera buona, per una buona opera, anzi per bestemmia, perciò che tu, essendo uomo, ti fai Dio. Vedete la differenza? Qui, i nemici di Gesù riconobbero a Gesù che dalle sue parole si stava facendo uguale a Dio, tanto che volevano lapidarlo per bestemmia. E non un Dio. Vediamo come lo stesso passo viene reso da l'edizione nuova riveduta del 2006. I giudei gli risposero, non ti lapidiamo per una buona opera, ma per bestemmia, e poiché tu, che sei uomo, ti fai Dio. Anche qui viene tradotto alla stessa maniera, e non un Dio. Edizione San Paolo. Gli risposero i giudei, non ti lapidiamo per un'opera buona, ma per una bestemmia, perché tu, che sei uomo, ti fai Dio, e non un Dio. Anche qui, allo stesso modo. Edizione Parola del Signore. La folla gli rispose, non vogliamo ucciderti per un'opera buona, ma perché tu bestemmi, infatti sei soltanto un uomo e pretendi di essere Dio. Perfino i nemici di Gesù riconobbero appunto il fatto che lui, dalle sue parole, stava insegnando di essere Dio. Eppure, come abbiamo visto prima, la traduzione del Nuovo Mondo modifica questo passo e traduce un Dio, con articolo e scritto in minuscolo. Ora vediamo come viene riportato questo passo dall'interlineare, dal testo greco. Eccoci qua, siamo nell'interlineare online, al versetto 33, è interlineare inglese, ma comunque il testo greco, eccolo qui. Allora, a noi interessa soprattutto la parte finale. Peri blasfemias, per bestemmia, cai, oti, e perché, si antropos, tu che sei uomo, on poieis, se auton teon, fai di te stesso Dio. Vedete com'è tradotto? make yourself God, cioè fai di te stesso Dio e non un Dio. Ora non posso farvi vedere tutti i confronti con tutti gli interlineari, ma tanto il testo greco è questo. Però voglio farvi vedere come lo riporta la vulgata latina di Girolamo. Siamo nella vulgata latina online. Questa è una traduzione molto importante, risalente al V-VI secolo d.C. È una traduzione, è una versione, questa latina di Girolamo, sulla quale si basano poi molti successive versioni. È ritenuta molto, molto importante, perfino dalla stessa società torre di guardia, pensate. E guardate come viene riportato il versetto 33 nella vulgata latina. Ecco, ve lo evidenzio. Eccolo qua. risponderunt, ehi judai, de bono opere non lapidamus, te sed de blasfemia, et quia tu homo cum sis facis te ipsum deum. Cioè, fai di te stesso Dio, e non un Dio, Dio, e anche in maiuscolo tra l'altro. Quindi, come potete vedere, anche in questo caso, e anche in questo caso per quanto riguarda il fattore divinità di Cristo, la traduzione del Nuovo Mondo cambia. Cambia il versetto, lo modifica, per non far intendere al lettore che Gesù sia Dio. Quindi, questa traduzione, questa versione della Bibbia, dei testimoni di Geova, è stata tradotta per farla coincidere con le dottrine della società torre di guardia, anziché il contrario. I testimoni di Geova, come ho detto tante volte nei miei video, vi dicono che la loro Bibbia è uguale a tutte le altre, anzi, all'inizio, quando approcciano con voi, vi dicono che va bene usare qualunque Bibbia, anche una vostra personale, ma poi vedrete che quando andranno, prima che vadano in difficoltà, e prima che voi abbiate il tempo di fare i confronti, vi diranno, vi consiglieranno caldamente di usare la loro Bibbia, la versione traduzione del Nuovo Mondo. Anzi, ve ne forniranno una copia loro stessi, direttamente, in regalo. Quindi fate attenzione, la traduzione del Nuovo Mondo è una Bibbia alterata, tradotta dall'inglese, peraltro, ma soprattutto è tradotta fortemente influenzata dalla corrente teologica della società torre di guardia. Grazie e al prossimo video. Che Dio vi benedica!